Musica Pifas in San Michele, il tema diventa terreno di scontro politico fra amministrazione e minoranza L'Astra è e deve restare il teatro dei Bassanesi, lo dice Gianni Zenchi e i cami privati alla collaborazione Intonaci crollati al museo civico ci vorranno ancora giorni per individuare le cause del distacco Clamorose indiscrezioni sulla morte dell'onorevole Bisaglia emergono durante la puntata di Focus Pallottole di gomma contro i lupi, ma scettico il sindaco di Asiago, dice impossibile in alto piano Lupi ancora scatenati, doppia predazione a Rubio, due burline uccise nella notte Il caldo torrido colpisce soprattutto gli anziani e nelle case di ripoggio si fanno i conti anche con il Covid Richiesta per la morte del 47enne operato a Cittadella per un ascesso, ci sono i primi indagati Buonasera e benvenuti al Tg Bassano Apriamo questa edizione ancora una volta con i Pifas di San Michele perché è uno scontro ormai aperto fra amministrazione comunale, opposizione, minoranza Perché tutti vogliono dire la propria sul tema dell'inquinamento nella frazione, nel quartiere e intanto i Pifas restano al loro posto Sarà che è lo sport del momento? Sarà che ogni partita rischia di durare una vita e di essere caratterizzata da continui scambi che lasciano tutti con il fiato sospeso Sarà, ma quella che si sta giocando sul campo di San Michele ha tutto l'aspetto di una partita a tennis Fra l'amministrazione di Nicola Finco e l'opposizione guidata da Roberto Campagnolo Uno butta la palla avvelenata, passateci il termine, nel campo dell'avversario che fa di tutto per rispedirgliela con gli interessi E così il municipio anticipa tutti dando vita a una commissione tecnica con protezione civile Provincia, UL7, ARPAV, Genio Civile, Forestali e Detra, oltre al Comitato di Quartiere Commissione che sarà convocata la settimana prossima E così Campagnolo commenta l'istituzione della commissione su misura annunciata venerdì dal sindaco Dicendosi felice di vedere la presa d'atto da parte del Comune dell'esistenza di un problema FAS Ma la struttura della commissione tecnica a porte chiuse non va proprio giù alla minoranza Il cui speaker suggerisce che non sia affatto casuale l'attivazione del nuovo percorso Dopo la convocazione di un incontro pubblico sui FAS che si terrà in San Michele il 2 settembre Ma non è tutto perché la minoranza nota un certo cambio di passo fra i due ultimi comunicati Sfornati sull'argomento dall'amministrazione In meno di 15 giorni, scrive Campagnolo in un post di fuoco su Facebook Si passa dal paventare un possibile procurato allarme verso chi chiede di approfondire il tema Al costruire una commissione a porte chiuse dove manca solo la Nato Una battuta, naturalmente, ma nei giorni scorsi qualcuno dalle parti del municipio Aveva bocciato la serata indetta da Campagnolo nel quartiere Bollandola come un evento politico senza istituzioni Senza la Nato, appunto E allora dalla partita a tennis si passa a una specie di guerra fredda In questa estate torri da dove le parti costruiscono una cortina di ferro Lanciandosi accuse e organizzando commissioni ed eventi Mentre in mezzo scorre il fiume Pardon, i Pifas E in un altro fiume, la Brenta, nello specifico è stata trovata una bomba a mano Si tratta di un residuato bellico, probabilmente della prima guerra mondiale Lasciato forse, fanno trappelare voci dall'amministrazione comunale Da qualche irresponsabile per il suo stato di abbandono L'area è stata completamente transennata e si attende l'arrivo degli artificieri Sono state avvertite le autorità Vedremo la settimana prossima probabilmente che cosa succederà E adesso restiamo in centro perché andiamo a vedere la situazione del museo civico Dopo che c'è stato un crollo di intonaci È passata una decina di giorni dalla caduta di alcuni calcinacci del soffitto Sopra lo scalone di accesso al piano nobile del museo civico di Bassano Da allora il passaggio in quell'area è interdetto per ragioni di sicurezza Dalle prime analisi effettuate dai nostri tecnici dei lavori pubblici Sembrerebbe non si tratti di problemi strutturali Ma per esserne certi dobbiamo attendere la prossima settimana Il sopralluogo di una ditta esterna incaricata che farà delle analisi termografiche Uno dei luoghi di maggiore interesse culturale per turisti e visitatori È ancora parzialmente inaccessibile proprio nel pieno della stagione estiva Dispiace purtroppo sia successo nelle settimane in cui la città viene l'afflusso di più turisti Rispetto al resto dell'anno È stato comunque deciso di tenere aperto il piano inferiore del museo E creare un biglietto in cui si possa poi andare a visitare anche il palazzo Sturma Si attende il sopralluogo tecnico dei prossimi giorni per individuare le cause dei distacchi E far tornare il museo alla piena operatività Speriamo quindi non si tratti di nulla di grave e che tutto il museo venga riaperto il prima possibile Decisamente più grave è la situazione del teatro Astra Ci sono ancora i buchi sul tetto e la politica si interroga sul futuro della struttura Da troppo tempo è abbandonato il luogo di incuria Col tetto in parte crollato e il sipario ancora ben lontano dalla riapertura Se si stia avvicinando un nuovo atto, magari un colpo di scena sul futuro del teatro Astra Dovremmo scoprirlo in un futuro forse non così lontano Intanto arriva la manottesa alla maggioranza da parte della lista È il momento Il teatro Astra deve diventare il teatro sociale Cioè dei bassanesi, di proprietà dei bassanesi gestito ovviamente da una fondazione Siamo in attesa delle proposte della maggioranza E aspettiamo che magari queste proposte possano arrivare nelle commissioni cultura e lavori pubblici Per poter anche entrare nel merito di quelle che sono le condizioni delle proposte Quindi siamo in attesa anche con buon auspicio per collaborare con l'amministrazione Riappropriarsi di un teatro capiente, bello e prestigioso Sarebbe una svolta per la vita culturale di Bassano I teatri sono quei luoghi simbolici nei quali la cittadinanza si riconosce I bassanesi quando pensano al teatro pensano all'Astra Come fattore emotivo, sentimentale E credo che questo dica anche un qualcosa che fa parte della storia di una città Ed è una bella cosa insomma Dovrebbero arrivare novità sul teatro cittadino entro poche settimane Vedremo che cosa succederà per un tema così sentito dai bassanesi Adesso cambiamo argomento Andiamo indietro nel tempo perché arrivano clamorose indiscrezioni Su un fatto che ha sconvolto l'opinione pubblica veneta e italiana Tanti anni fa arrivano durante una puntata di Focus Faccio parte di quella schiera numerosa di persone Che ritiene che sia stato un omicidio Nei confronti del povero Pisaglia E subito dopo nei confronti anche del fratello Prete Trovato poi allegato dei sassi in tasca Come un laghetto poco fuori, poco lontano Mago di Domeggio Sono passati 40 anni da quell'assolato giorno di giugno In cui il tre volte ministro Antonio Bisaglia Capo della corrente Dorotea della democrazia cristiana Cadde dalla sua barca a vela a largo di Portofino Per entrare nei grandi misteri italiani La morte di Bisaglia nato a Rovigo e parlamentare per quasi 20 anni Fu attribuita subito a un'onda anomala Ma questa versione non ha mai convinto del tutto E ora emergono durante una clamorosa puntata di Focus Indiscrezioni che gettano una luce diversa su tutta la vicenda A parlarne è Settimo Gottardo Deputato e sindaco di Padova sotto legida dello scudo crociato Che solleva la testimonianza diretta del direttore Luigi Bacialli Io ero stato interrogato dai PM di Chiavari e di Belluno Perché ero lì quando Bisaglia cadde dalla barca Vedemmo questo spruzzo a poppa Ci avvicinammo, trovamo l'asta della bandiera La portammo in capitaneria Ho visto le foto di Bisaglia dal PM di Chiavari Lui aveva una ferita lacero contusa Così che poteva essere stata inferta Provocata solo da una catena Da un colpo molto forte Non era possibile accreditare la tesi della caduta E di un urto sulla battagliola Che è un filo che insomma Ma direttore Ecco però Il movente Il movente Secondo lei quale può essere stato? L'anno fa Lui si sapeva che Bisaglia Non sapeva notare Questo era noto a tutti Anche a me Che poi tra l'altro Io all'epoca ero di un'altra corezza Non era neanche della sua Gottardo Bisaglia L'aveva visto a Padova Dove il Doroteo Era andato a visitare Sul letto di morte Berlinguer Colpito da malore E ammette che già all'epoca Qualcosa nel matrimonio del politico Lo aveva lasciato Con parecchi dubbi Tutti Molti Già allora Avevano detto Sì certo C'è stato un colpo di testa E siccome nessuno Riusciva a giustificare Questo colpo di testa Sapete la persona Che mi era dato all'epoca Quando anch'io le sottenevo Ah e sì Forse Lui è sceso giù E Dentro la stiva della nave Ha trovato Che forse C'era stato un tradimento Della moglie Con qualche marinare Però Questa versione Sudicia È impropria È falsa È chiaro Che stava Anastornizzato Che qualcuno Gli aveva dato Un botto in testa E gli aveva dato Un botto in testa Perché lui aveva scoperto Un eventuale Improbabile Impossibile Tradimento Matrimoniale Una luce nuova Su una vicenda Sulla quale l'Italia Si interroga da anni Un dettaglio Che chissà come Non è finito Nei faldoni Dell'indagini E che mette In una prospettiva diversa Tanti altri fatti Della storia recente Del paese È una storia Gialla Una gialla Che fa parte E dei tanti misteri Di questa repubblica Un capitolo Doloroso E misterioso Nel quale va inserita Anche la morte Del fratello Dell'onorevole Il sacerdote Mario Bisaglia Ha negato O soffocato Anni dopo Nel cadore Ma questa È un'altra storia O forse no Cambiamo decisamente Argomento Parliamo Del progetto Per allontanare Spaventare I lupi Con proiettili Di gomma Arriva una bocciatura Dall'altopiano Il nostro È l'alpeggio Più vasto D'Europa Quindi Trovo Veramente difficile Poter perseguire L'obiettivo Del contenimento Del lupo Attraverso L'utilizzo Di pallottole Di gomma Non vorremmo mai Che venisse utilizzato In una chiave Propagandistica Cioè questo Strumento Dell'utilizzo Delle pallottole Perché noi Abbiamo bisogno Di risoluzioni Realistiche Dei problemi E non Di slogan O di soluzioni Che possono essere Come dire Dimostrativi Di un impegno Amministrativo Politico Che non è di fatto Rissolutivo Delle problematiche Nei nostri allevatori Non usa mezzi termini Roberto Rigonisterne Il sindaco di Asiago Nel commentare La sperimentazione Avviata a Torre Belvicino E Arsiero Dell'utilizzo Di pallottole Di gomma Per allontanare I lupi Dalle zone Predate Da troppo Si sta parlando Di continue Predazioni Infatti Da troppo Si sta riportando Anche nei nostri Tg L'esasperazione Dei malghesi Serve Precisa Il primo cittadino Una risposta Certa Dalle istituzioni A dire il vero Siamo anche un po' rassegnati Anche se Di fronte al Ministro Abbiamo messo in evidenza Queste gravissime problematiche Che stanno vivendo I nostri Allevatori E il nostro territorio Di riflesso Devo dire Che gli strumenti Che sono messi in campo Secondo Il nostro punto di vista Non sono sufficienti Né soddisfacenti Ma neppure il Ministro Ha dato una risposta Chiara Verso la risoluzione Di questo problema Demandando Una definizione Precisa Agli organismi Europei Quindi qua Bisogna sedersi Ai tavoli Dell'Europa Per poter arrivare Ad una degradazione Ad una declassificazione Di questo animale Come dicevo Da superprotetto Protetto Per poter effettivamente Avviare tutte quelle procedure Che sono fondamentali Per poterlo rendere Meno invasivo Rispetto alle nostre aree Trovo difficile Poter gestire Questo animale Stabilendo Che solo la Polizia Provinciale Possa utilizzare Questi pallini di gomma In un territorio Che consta Di migliaia di ettari Come quello del nostro Altopiano E quindi staremo a vedere Come andrà questa sperimentazione Nei due comuni Nella quale verrà attuata Quasi in risposta A queste polemiche A queste dichiarazioni Arriva l'ennesimo A predazione In Altopiano Dal Monte Corno Alla Val Bella di Gallio Da Caltrano A Rubio Non c'è pace In Altopiano Dove le malghe Sono sotto assedio I branchi di lupi Che si spartiscono La montagna Vicentina Sono arrivati Anche sulla spalla est Del comprensorio Da dove si domina La Val Brenta Qui nella valle Che ospita alcune malghe A ridosso del monte Caina E dei trinceroni Di Campolongo Nelle scorse ore Sono state predate Due vacche Gli animali Sono stati trovati Dei proprietari Ormai straziati E privi di vita E ai malgari Non è rimasto Che raccoglierne i resti E segnalare L'ennesimo attacco Alle autorità competenti Solo qualche giorno fa I lupi avevano ucciso Il sesto animale Nella stessa malga In Vallastaro A una manciata Di chilometri In linea d'aria Dalla zona Dell'ultima predazione Potrebbe trattarsi Dello stesso branco Secondo gli addetti I lavori E sempre negli giorni scorsi A Gallio Era stata uccisa La sesta vacca Di un allevamento Della zona Con un numero di attacchi Che ormai 10 unità L'altopiano Ha più volte chiesto aiuto E il settore agricolo Si trova tutti i giorni A fare i conti Con una situazione Diventata insostenibile Un tema molto complesso Ma anche voi Potete dirci la vostra Mandando un whatsapp Al 340 321 8379 O una mail A redazione Chioccio Alla rete veneta Punto it Dici Lupi scatenati Che cosa si può fare Cambiamo decisamente Argomento Andiamo a vedere La situazione Degli anziani In questo caso A Rossano Anziani Tra caldo torrido E pandemia Le strutture Evocate alla cura Di una delle fasce Più fragili Della popolazione Stanno affrontando La questione Sin dall'inizio Di questa bollente estate Come ci spiega La referente Negli infermieri Della casa di riposo Villaldina Di Rossano Veneto Abbiamo sempre monitorato Le temperature Nei ambienti Cercando di Tenerli freschi Ma accanto al caldo Dicevamo Torna anche Lo spettro Del covid Abbiamo fatto Dei tamponi Abbiamo cercato Di lasciare Libere Le visite Abbiamo abbreviato I tempi Però Le abbiamo sempre Lasciati libere Le visite Abbiamo cercato Un pochino Di Isolare I casi Quei pochissimi Casi Che abbiamo avuto Con serenità E con buona collaborazione Di tutti quanti Dal suo canto L'amministrazione comunale È presente Nel lavoro di sostegno Degli anziani A 360 gradi E pensa già Alla ripartenza Delle attività Post vacanze In questo momento Il centro ricreativo È in pausa estiva Ma riprenderà Il 10 di settembre Perché poi Da settembre Iniziano tutte le attività Mi preme dire Che dopo tanti anni Il primo di settembre Ci sarà anche Il pranzo dell'anziano Ritorna qui A Rossano In collaborazione Con la parrocchia E poi Dal 12 di settembre Ci saranno Quattro appuntamenti Nelle casette di quartiere Proprio dedicati Alle persone Over 60 Dove Ci saranno Dei intrattenimenti Ci saranno Dei giochi Ci saranno Comunque L'incontro Col fiorista Insomma Tante tante attività Per tutti i gusti Da ottobre Inizierà L'università Della libera età Con gli incontri culturali Però c'è sempre Un'attenzione Per la nostra fascia Per i nostri anziani Avevamo raccolto Nei giorni scorsi Una segnalazione Relativa a tombini Ostruiti A Marostica E con la risposta Del sindaco Abitazioni Abitazioni e strade Allagate Per tombini Ostruiti Dopo le piogge Delle scorse settimane Solo qualche giorno fa Un nostro telespettatore Aveva chiamato Rete Veneta Per segnalare La situazione Di tombini sporchi E pieni di rami e foglie Nell'area vicino Agli impianti sportivi Di Marostica Noi ci siamo attivati Per chiedere lumi Al sindaco Matteo Mozzo E per capire Come si stia muovendo Il comune Innanzitutto Ringrazio Della segnalazione Io ripeto Quando arriva Una segnalazione Non deve essere visto Come un problema Ma anzi Come una collaborazione Per cui segnalate Al comune Segnalate Rete Veneta L'importante è Segnalare Perché se segnalate Noi riusciamo A prendere in carico E a programmare i lavori Detto ciò Ci tengo a far sapere Che dopo L'emergenza Meteo di maggio Abbiamo stanziato 15.000 euro Per le prime pulizie Straordinarie Adesso andremo in variazione Con circa altri 15.000 o 20.000 Dobbiamo capire un po' Il bilancio In base alla disponibilità Sui vari capitoli Per poter fare Gli ulteriori interventi Ma le aree Verranno pulite In base alle criticità L'ufficio tecnico Ha diviso Il comune In settori Il comune È stato diviso In zone ad alto rischio Capitemi Quando divisco Alto rischio Nel senso Delle ostruzioni Nei tombini Moderato E rischio nullo Rischio nullo Cosa vuol dire Quando mari Una stessa via Ci sono Uno o due Occlusioni Su tombini E però Di conto Non abbiamo altri Mari 20 di liberi In questo momento La priorità È data A tutta l'area Collinare E sotto collina Proprio per le difficoltà Che ci sono state Nello scarico Delle acque meteoriche E esempio In questi giorni Stanno lavorando In via Beato Lorenzino E poi si sposteranno In altre vie Che hanno avuto Di riscontri Di occlusioni importanti Comunque ringrazio Della segnalazione Che verrà presa In carico Dall'ufficio tecnico E appena possibile Verrà pulito E naturalmente Verrà data Anche poi Riscontro Tramite anche La rete Torniamo in alto piano Per una toccante Cerimonia Che si è svolta Questa mattina Era l'11 luglio Del 44 Quando Francesco Covolo Papà di Federico Covolo Il noto partigiano E comandante Brocca Venne trucidato Con due colpi di pistola Alla testa Dei nazi fascisti Aveva 66 anni Nell'ottantesimo anniversario Di quella drammatica vicenda Che si consumò Sulla strada Del trenino Rocchette Asiago H9 Di Roana I parenti Lampi E il comune Hanno voluto rendere omaggio A questo uomo Una delle tante vittime Della brutalità Della guerra E ancora oggi C'è molta commozione Nel ricordare quella vicenda Il 10 di luglio Mio padre Con un gruppo di partisani Blocca il trenino Che sale Da Piovene e Rocchette Recupera una decina Di casse di armi Fa 6 o 7 prisionieri Che poi verranno rilasciati Nella notte Questo fatto Logicamente Mette in apprensione I nazifascisti Specialmente Stazione di Asiago E quella di Canove Mio nonno Abitava Proprio Su quell'edificio L'incima Il mattino dopo Mia mamma Sente bussare Alla porta E logicamente Apre Sono i fascisti I tedeschi Mio nonno Fugge dalla finestra Lui attraverso Logicamente Scende lungo Questo Prato E qui Logicamente Erano postati I famosi cacciatori Degli appennini Che lo Fucilano Un'esecuzione E' stata un'esecuzione Ecco perciò L'importanza Di questo atto Che poi logicamente Nella resistenza Ha un valore Molto molto importante Ecco questo E non si vuole dimenticare Assolutamente No Come non si vuole dimenticare Il sacrificio Di tutte quelle vite Nel nome della nostra libertà Della nostra costituzione Della nostra democrazia Nel nome anche Di un'Europa unita Come ci spiega Anna Maria Bernard Pronipote di Covolo Altopianese Che ha sposato Un cittadino tedesco E' molto importante In questa Europa Che è nata Da tutti questi sacrifici Dal sangue Per aver liberato E portato La democrazia In tutti i paesi Dell'Unione Europea E' importante appunto Creare ponti E non muri C'è un'inchiesta Per la morte Di un 47enne Operato per un ascesso A Cittadella Che ha poi perso la vita Ci servono Cinque medici indagati Cinque sanitari Tra medici E infermieri Dell'ospedale Di Cittadella Sono indagati Per omicidio colposo Per la morte Di Stefano D'Ambrosca Il 47enne Di Marghera Morto il giorno Di Ferragosto Dieci giorni dopo Un intervento Per rimuovere Un ascesso In gola L'uomo stava bene Non aveva patologie Pregresse Il giorno di Ferragosto La compagna Però lo ha trovato A terra Con il sangue Che gli usciva dal naso E privo di sensi La famiglia Ha presentato Un esposto In procura A Padova Ed è stata disposta All'autopsia Gli indagati Fanno parte Dell'equip Che ha operato Il 47enne Otorino Laringoiatri Anestesisti E infermieri Del nosocomio Di Cittadella Stefano D'Ambrosca Era arrivato lì Dall'ospedale Di Campo San Piero Gli era stato riscontrato Un ascesso in gola L'intervento Effettuato Il 5 agosto Ad età dei medici Era riuscito Ed era stato dimesso Dopo tre giorni In terapia intensiva La situazione È precipitata Improvvisamente Dopo l'autopsia La salma Del 47enne Sarà riconsegnata Ai familiari Per i funerali Dopo di noi Alle 21.15 Il film Commedia De Amateurs Con Jeff Bridges Questa era L'ultima notizia Del nostro Telesonale Vi ringraziamo Per essere stati con noi Vi auguriamo Una buona serata E come sempre Vi lasciamo al meteo